Buongiorno a tutti amici di Tele1, bentrovati con un nuovo appuntamento con 16 gol inside. Quest'oggi è il 25 marzo, Palermo che è andato in pausa per quanto riguarda il campionato di Serie B ma ha giocato una michaevole, mentre purtroppo fine settimana abbastanza nero per le siciliane di Serie C, ovvero Messina e Catania uscite dal campo con una sconfitta più pesante una dell'altra, però poi ne parleremo sicuramente. Quest'oggi diamo il benvenuto intanto al mio compagno di viaggio Mirko Valenti, buongiorno Mirko. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'ospite di quest'oggi è un grandissimo piacere per noi, un artista che è un attore, un cantante, un cantautore, insomma chi ne ha, chi più ne ha più ne metta, diamo il benvenuto a Cocò Gulotta, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, Forza Palermo subito, Forza Palermo immediatamente. Ecco, Forza Palermo sì. E allora stavo per dire poliedrico, ecco questo era il termine che mi mancava ed è anche un grandissimo tifoso del Palermo, ovviamente quest'anno, anche quest'anno stai penando forse un po' per questo Palermo. Un po', un po' è un efemismo, diciamo che stiamo seguendo un po' tutte le escursioni emozionali di questa squadra che non si rassegna a farci godere il percorso. Purtroppo siamo costretti invece a stare al passo con questi alti e molto bassi purtroppo, purtroppissimo. Però, però, stiamo vicini alla squadra, non la molliamo mai perché ricordiamoci che i playoff quasi certamente al 99% li giocheremo. Quindi Forza Palermo. Forza Palermo sì, allora diceva Cocò stiamo vicini alla squadra, forse non ti hanno sentito in tantissimi per l'amichevole contro il Lommel. Andiamo a vedere uno striscione che è stato portato all'interno dello stadio Renzo Barberi in occasione di questo match amichevole. No, forse lo vediamo soltanto fra un po', però Mirko, erano davvero pochissimi. Secondo te questo è un segnale alla società, questa presenza completamente ridotta, molto ridotta? Diciamo, la partita non era di grande richiamo, era più che un amichevole un allenamento in casa con dei cugini dell'Universo City. Quindi non era molto appetibile, ecco. Cioè il Lommel, comunque Serie B belga, se avessimo giocato contro il Girona, contro il City, ci sarebbe stato il pienone ovviamente, per restare sempre nell'universo del City Football Club. O altrimenti se avessimo vinto col Venezia, probabilmente se avessimo vinto seriamente, tra l'altro con 3-4 gol col Venezia, avremmo avuto il pienone, non c'è dubbio. Avremmo avuto il pienone, però lo stadio era come si presentava. Ecco, andiamo a guardarlo come si presentava con questo striscione in particolare, in cui si legge settori ospiti sold out, 30.000 al Barbera. Meritatevi il sostegno di una città intera. Cocò, ti chiedo la squadra, o meglio, c'è una rottura vera fra il pubblico e la squadra, secondo te, adesso, in questo momento? Mi sembra che sia stato dimostrato ampiamente, io a mia memoria non ricordo una contestazione così forte, così brutta, 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 perché poi bisogna dire, nei confronti di Eugenio naturalmente, del nostro capitano, è il nostro capitano, rimane e rimarrà per sempre il nostro capitano, e fa male al cuore vedere i tifosi che, virgolette, insultano l'allenatore capitano. Io sono ancora sperancioso, mi auguro davvero che questo Palermo possa andare in Serie A e che poi cambi guida tecnica, però. Eugenio Corini ha parlato alla fine del match contro il Lommel, ricordiamo l'hanno segnato di Francesco e Gomez, il Palermo è tornato al successo, ecco, così sorridiamo un po' in questa amichevole, poi Corini ha parlato e ha detto tutto ciò. Allora, sull'amichevole è stata un'amichevole vera, lo certificano le ammunizioni, l'intensità, dunque era quello che cercavo proprio per dare un senso alla settimana di lavoro che chiudesse con un amichevole comunque di livello, e così è stato, da un punto di vista prettamente tattico avete visto i difensori che avevo a disposizione, di conseguenza in settimana abbiamo lavorato sulle cose che conosciamo, perché non c'era la possibilità di provare qualcosa di diverso, ma comunque a livello generale, come vi ho detto, ci stiamo confrontando col mio staff per capire cosa possiamo fare per consolidare una fase difensiva che nelle ultime partite purtroppo ci ha visto penalizzati nei gol subiti, e sicuramente la settimana prossima, che comunque sarà una settimana lunga, perché faremo un allenamento in più rispetto a quello che si fa solitamente in settimana tipo, ci permetterà appunto di lavorare anche su un'alternativa che ci possa dare una copertura diversa, che possa proteggere meglio i nostri difensori. Sicuramente dispiace, ma è comprensibile, perché diciamo che fino dopo la partita con la Cremonese, che come abbiamo detto allora è stata un'occasione persa, ma che comunque avevamo pareggiato, eravamo molto vicini alla seconda posizione, le ultime partite hanno tolto entusiasmo, è normale che quando perdi arrivano critiche, arrivano sollecitazioni, come quando fai questo lavoro sai che ne fanno parte, e dunque sta a noi ricreare questo entusiasmo, sta a noi attraverso le partite, le prestazioni, perché è un campionato ancora lungo, otto partite sono ancora tante, e soprattutto vogliamo fare al meglio possibile, e come vi ho detto è vero che ci sono due posti per la promozione diretta, ma questo campionato ne riserva anche una dopo, e di consenso dobbiamo lavorare per essere pronti a tutto questo. Allora, con Silvio Baldini in panchina fino a marzo non se ne parlava completamente di una eventuale promozione, Corini lancia questa pietra. Io ti volevo chiedere, Cocò, cambio di modulo, si parla di cambio di modulo a otto giornate dalla fine, cosa ne pensi, come valuti questa possibile idea, ipotesi? Ma senti, proviamo anche questa possibilità che ti devo dire, certo che questa squadra di fatto è stata costruita per il 4-3-3, quindi abbiamo un parco giocatori, anche se, c'è da dire, gli esterni ci hanno deluso, cioè a parte Di Francesco che ogni tanto si dà una svegliata, a parte Ciaca che pare alla lunga possa diventare quel campione che è in nuce, la verità è che secondo me non è tanto più una questione di modulo, è una questione di mentalità, di testa, abbiamo visto crollare il Palermo per mere questioni psicologiche, ma non ci sono altre spiegazioni, anzi un'altra c'è, c'è un problema probabilmente di preparazione atletica, io non sono un tecnico per poter giudicare e non conosco naturalmente le dinamiche rispetto alla preparazione atletica, però è vero che qualche segnale importante che ci sia stato un problema da questo punto di vista, evidente problema da questo punto di vista, gli altri sembra che corrano come i pazzi, e il Palermo dopo un quarto d'ora abbiamo visto, quindi vabbè proviamo anche questo modulo, proviamo anche la difesa a tre, chissà. Vedremo, staremo a vedere però Mirko, responsabilità dei giocatori, ci siamo focalizzati molto spesso solo su Corini, però anche i giocatori hanno una bella responsabilità, no? Vabbè sicuramente sì, perché vanno loro in campo, quindi sono loro che devono dare il 100%, se non sono motivati nella maniera giusta, se sono magari messi in una zona di campo che non è la loro congeniale, sicuramente rendono meno, quindi la responsabilità in percentuale è sempre comunque dell'allenatore, diciamo un 70-30 per il giocatore questo c'è, perché comunque in campo devi sempre sudare, devi sempre dare il massimo. Ci sono dei messaggi dei telespettatori che riguardano proprio la partita, è l'amichevole che si è giocata, forse dei pochissimi che erano allo stadio, è bello vedere lo stadio vuoto, la dirigenza dovrebbe pensarci su, la prossima dentro casa dovrebbe essere così, poi quelle poche palle gol le sprechiamo anche, tralasciando la difesa, insomma la difesa fa acqua, poi c'è una battuta dopo Catania, anche al Palermo hanno fatto giocare senza pubblico, grande vittoria di prestigio, tutto merito di Corini. A proposito di Corini, ci spostiamo sullo spazio del sorriso, andando a vedere un video degli amici di FPS, il faraone rosa-nero. Goditevi il parcorso, 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 goditevi il parcorso. Allora Coco, ti sveglieresti tu di botto, a lampo con una cosa del genere, no? No, invece al contrario, credo che sia questa reiterazione, questa parola percorso, poi ci sono due o tre parole che... Consolidamento. Consolidamento, e poi avrete notato che ripeto è spesso importante, importante, importante. Io piuttosto che svegliarmi mi addormento se sento Eugenio. Devo dire che non dà tantissima soddisfazione quando si esprime. Del resto, signori, c'è un altro problema, e il problema è che l'unico canale di comunicazione di questa società è Eugenio Corini. Esatto. Mi piacerebbe tanto ascoltare altre voci, magari cambierebbe anche un po' la sveglia. Sì, se ne è parlato tanto di questo aspetto, probabilmente fa parte della mentalità del siti. Hanno lasciato però Eugenio Corini da solo e bisogna anche riflettere sul silenzio di Gardini o della società. Ti saresti aspettato qualche spiegazione in più tu, Mirko, da parte dei vertici del club? Beh sì, a questo punto sì, perché comunque il club deve farsi sentire e deve dare delle risposte alla tifoseria. Buttare tutto sulle spalle di Corini non è bello e continua a fomentare, tra virgolette, questo distacco che ci può essere tra il tifo e l'allenatore. Perché se il tifo sente solamente l'allenatore, dà tutto il peso a lui e non c'è una distribuzione delle colpe anche sugli altri dirigenti. Allora, Cocò Gulotta, noi lo abbiamo visto di recente su Rai 1, su Macari, ancora una volta. Eccola qui, la regia è prontissima. Razzo, sicuramente più veloce del Palermo di oggi. E vediamo questa immagine con Cocò Gulotta. Insomma, Cocò, fai finta di essere, non lo so, il presidente del Manchester City che incontri Reinaudo e Corini. Che cosa stai dicendo a loro in quel momento? Ah, in quell'immagine lì, allora, Corini è piccionello, perché è stralunato, va per la sua strada, incontra il mondo e gli eventi del mondo, però è sempre nel suo mondo personalissimo. Mentre Saverio Lamanna, in questo caso Rinaudo, che è un po' quello che gestisce le cose all'ombra, un po' nascosto da Corini, proprio perché Corini è quello che si espone. A loro posso dire, forse state leggendo il libro sbagliato, cambiate il libro, probabilmente, nel prossimo troverete la soluzione. Troverete la soluzione. Ma secondo te ci vuole un mental coach? Da mental coach cosa diresti tu? Si è parlato tanto del mental coach durante l'era Baldini. Ma senti, quando c'era Baldini e c'era il mental coach, c'era innanzitutto Baldini. Baldini era, è, intanto abbiamo visto come è andata anche in questa sua ultima esperienza col Crotone, non è andata sicuramente benissimo, però è una che non le manda a dire. Probabilmente si avrebbe bisogno più che di un mental coach, anche soltanto di una guida tecnica che sia così, viscerale, sanguigna, come si diceva una volta. C'è bisogno di qualcuno che sproni questi ragazzi, che dia una bella svegliata, che sia un mental coach, quindi che abbia quel tipo di competenze, o che sia semplicemente un allenatore che ha voglia di arrivare all'obiettivo. Perché sembra, tante volte sembra che Corini appunto viva nel suo mondo e si lascia scivolare le cose addosso, persino gli insulti. Eugenio, dattina svegliata. Vabbè, Corini è quello che ha detto in conferenza stampa che non siamo da secondo posto, quindi ti distrugge mentalmente. È il contrario del mental coach. È un demotivatore, un po' come Bongi a Jalapa Show, va là per demotivare i giocatori quasi, una cosa incredibile. Anche se poi a dono del vero lui ha corretto un po' il tiro in una conferenza stampa successiva, dicendo che voleva dire che matematicamente in quel momento il Palermo non poteva essere secondo. Però si è espresso malissimo. E anche là la società non è intervenuta e questo silenzio, quando un allenatore comunque fa uno scivolone del genere, dà fastidio. Io a proposito del fatto che la società è coerente con la sua visione inglese di gestione, eccetera, questi signori non hanno ancora capito, sono passati quasi due anni, Io spero che finalmente comprendano, sì è vero, loro devono essere coerenti con la loro visione della gestione di una squadra di calcio, però è anche vero che sono a Palermo e noi tifosi palermitani siamo fatti in un modo, c'è sempre la necessità di stare in ascolto quando si vuole entrare in comunicazione, cerchiamo di capire che cosa veramente vogliono i tifosi palermitani e cerchiamo un po' di essere in linea con il tifoso palermitano, quindi parliamo con il tifoso, entriamo in comunicazione col tifoso palermitano e cerchiamo di dare al tifoso palermitano, certo, Zamparini esagerava anche, però quanto ci mancano certe uscite del buon Zamparini. Hai detto Zamparini per caso? Però esagerando, esagerando ci ha portato in Europa. Sì appunto, è stato concreto poi alla fine. Concreto come il Palermo in quella giornata del 2003-2004, hai parlato di Zamparini, guarda un po' questo video. Renzo Barbera in 30.000 per il derby del sud fra Palermo e Napoli, arbitrato da Racalbuto. I due allenatori, Baldini, una maschera e Simone. 26esimo comincia lo show del Palermo, Vasari dalla destra, la palla in aria, si coordina il difensore Ferri e batte il portiere Manitta. 1-0 per il Palermo, prima rete di Ferri in Serie B, l'esultanza del difensore. Codrea, il tiro, la deviazione di Manitta. Infortunio per il napoletano Dionigi in campo Zanini al 33esimo. 37esimo. Zauli, arpiona la palla al centro campo, ispira a Toni che si invola e batte con un destro violento il portiere Manitta per il 2-0 al Renzo Barbera, si fa festa. Nella ripresa ecco il gol più bello, il 3-0. Secondo minuto, Zauli accarezza la palla di destro, il pallonetto che batte Manitta. E il 3-0, l'esultanza di Zauli che riceve la palla da Corini e poi la festa in curva nord. Rivediamo il tocco morbido di Zauli che batte Manitta imparabilmente. Il Napoli non c'è più ancora, Zauli siamo nel 14esimo del secondo tempo e Toni realizza il suo secondo gol personale. Palermo batte Napoli 4-0. Ci fai piangere, ci fai piangere, ci fai vedere queste cose. Zauli, Toni, Renzo Barbera, pieno, commosso. Mirko, quel gol ce lo ricorderemo a lungo, il pallonetto di Zauli. Sì, Zizu Zauli è un grande. E non solo, non solo quello. Sì, vabbè, Zauli ci ha fatto vedere bellissimi gol in vere occasioni. Partita contro il Pisa per il Palermo e qui chiudiamo la parentesi sui rosa-nero e apriamo quella sulla Serie C, ci manca poco, siamo in chiusura quasi. Possiamo andare a vedere la classifica, regia prontissima anche in questo caso. Mirko, un weekend abbastanza nero per le siciliane. Assolutamente sì. Ricordiamolo, Messina 3-0 ha perso in casa col Foggia, mentre il Catania ancora una volta con la Turris fuori casa. Sì, partiamo dal Messina. Il Messina ha fatto un inizio di match abbastanza buono, stava giocando, anche se sotto di un gol comunque la squadra era abbastanza presente in campo. Poi una follia del giocatore messinese che a centrocampo fa un fallo secondo me abbastanza inutile perché non c'era un reale pericolo di ripartenza. Già ammonito, quindi secondo giallo ed espulsione, da lì il Messina è stato tutta una discesa. Fino alla seconda espulsione, ancora più assurda secondo me perché Frisena fa un fallo da terra, viene ammonito, applaude in maniera beffarda l'arbitro, che ovviamente secondo giallo è l'espulsione, quindi totalmente fuori di testa la partita del Messina che poteva tranquillamente giocarsela con il Foggia. Mentre parlando del Catania, ancora una prestazione abbastanza scura del Catania. Non ho visto grandi momenti di gioco. Io leggo di tanti tifosi che dicono, insomma, Lucarelli, sembrava Lucarelli il problema, in realtà non lo era, assolutamente così come il precedente allenatore. Cioè non è cambiato quasi nulla, tranne l'organico. Una squadra che cambia tre allenatori, che cambia 12 giocatori a gennaio nel mercato di riparazione, c'è qualcosa che non va. Questo qualcosa gli sta ripercutendo sul campionato. Ricordiamo che il Catania è a rischio zona play-out, ma si potrebbero evitare se la penultima, quindi in questo caso il Monterosi-Tuscia, dovesse avere più di otto punti di stacco dalla quinta ultima. Quindi in questo momento i play-out non si disputerebbero e il Catania, grazie alla finale di Coppa Italia col Padova, andrebbe a fare i play-off. È una cosa paradossale che una squadra che rischia i play-out poi in realtà debba andarsi a giocare in una promozione. Senti Coco, io parlavo poco fa di Macari, però insomma ti abbiamo visto nei Leoni di Sicilia, che tra l'altro sarà riproposta in Rai, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, e ti chiedo quali sono i prossimi appuntamenti per te. Beh, adesso la cosa che mi piace ricordare... Sono tanti i programmi. Sì, sono tanti, però insomma, avendo anche pochissimo tempo per raccontarmi, voglio citare soltanto la concessione del telefono, che è una produzione del Teatro Biondo, Andrea Camilleri con Alessio Bassallo, protagonista, è uno spettacolo che sta girando tantissimo, siamo stati di recente al Piccolo Teatro di Milano, grande successo, molto contenti di aver portato la Sicilia a Milano e aver avuto tantissimo successo, e adesso rientra la concessione in Sicilia, quindi saremo ad Agrigento e a Modica. Ottimo, e poi insomma ci sono altre cose, ma ci servirebbero altre trasmissime. E poi altre cose, cose di cui naturalmente non posso parlare mai, neanche sotto tortura. E allora dicele. Però insomma c'è anche tanta musica, ci sono i miei concerti monografici in chiave jazz, l'ultimo è stato di Lucio Dalla in chiave jazz, ma presto tanti altri concerti, seguitemi, seguitemi. Benissimo, seguitemi. Anche su Instagram, giusto? Certo. Allora diamo anche la pagina di Coco Gulotta, andatela a seguire, così come Goal Inside TV, lo vedete qui in basso a destra, seguiteci, ovviamente l'appuntamento con Goal Inside torna la prossima settimana, sempre 14.30 Tele One, anzi la prossima settimana non proprio. Facciamo fra due settimane. Se vogliamo fare una diretta dal barbecue di Pasquetta, a disposizione. Diamo la scelta ai telespettatori, ma io penso che alla fine non se ne farà niente, quindi fra due settimane. E poi ovviamente seguiteci sui social, Goal Inside TV oppure anche su teleone.it. Grazie a tutti, grazie Mirko Valenti. Grazie a te, una buona giornata a tutti gli spettatori. E ringraziamo Coco Gulotta, ti vedremo presto. Ciao. A presto, Forza Palermo. Ciao. 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 Ciao.